Bentornati cari amici alla nostra rubrica Immobili in vendita, Immobili venduti. Oggi parleremo di un immobile nella Via Roma, una traversa a Quarto che collega la Via Garibaldi alla Piazza Azuni, quindi nel pieno centro storico di Quarto, dovevamo in vendita un locale commerciale, un'ex pizzeria al piano terra che i proprietari volevano compravendere a 75.000 euro. Ora, come saprete, le problematiche del mercato del commerciale e delle tipologie affini si sentono parecchio dalla termine della pandemia, quindi noi abbiamo provato a trovare delle soluzioni alternative. Importante è il ruolo di un agente immobiliare nel trovare idee, spunti, studi di pratica per riuscire a compravendere l'immobile alla migliore condizione di mercato in meno tempo possibile. Grazie all'aiuto del nostro ingegnere abbiamo fatto uno studio di fattibilità sul campo di destinazione d'uso e un caro cliente è arrivato a comprarlo per farci la sua prima casa. Realizzerà quello che è un appartamentino con cortile, rendendolo un idoneo immobile al piano terra con ingresso dipendente. Ovviamente vi propongo di comprendere qual è il prezzo che abbiamo compravenduto. È questo? È questo? O è questo? Beh, questo immobile è stato compravenduto a 63.000 euro. Con la possibilità dell'acquirente di fare i cambi di destinazione d'uso e le relative opere prima della compravendita, maniata ed acquistarlo come prima casa e esimendosi dalle grosse e pesanti tassazioni dell'acquisto di un locale commerciale. Anche tu hai un locale commerciale in famiglia che vorresti collocare sul mercato ma tutti quanti ti richiedono dei valori economici non idonei a queste esigenze? Contattaci, potremmo darti una mano. Dalla Borinrico, migliazione immobiliare.